Assessore, oggi con Ferenza Regioni avete incontrato il Ministro Polletti e c'è questo piano contro la povertà. Cosa pensa e com'è nel concreto questo piano? Allora, noi lo valutiamo comunque positivamente. Allora, come Regione Lombardia per dire noi abbiamo già anticipato queste politiche, quindi stiamo tappando un buco di una competenza nazionale. Adesso pare che anche il Governo si muova su questo piano e questo è sicuramente positivo. Il lavoro vero da fare in quest'ottica è sulle banche dati. Mi spiego, non è tanto un problema di risorse paradossalmente. A Milano, Milano città, le ACLI, che quindi sono un organismo sicuramente neutro, hanno certificato che ci sono oltre 40 erogatori a vario titolo di prestazioni di carattere sociale. Quindi che succede? Succede che il più informato becca 40 volte, il meno informato, che non ha accesso a queste informazioni, a queste erogazioni, zero. Questo è chiaramente ingiusto in tutti e due i sensi. Quindi il punto chiave è la banca dati. Noi stiamo lavorando in Lombardia su una cartella digitale sociale, e quindi il fatto che si parlino i diversi soggetti, quindi i comuni, la regione, per la parte di competenze in particolare sociosanitaria. Il buco vero è l'Inps. L'Inps non mette a disposizione i propri dati. E siccome il grosso delle erogazioni vengono dall'Inps, pensiamo ai sussidi vari di disoccupazione e questi nuovi che arrivano, se le due cose non si parlano non si risolve il problema di equità. Grazie.